Ragazzi prima di lasciarvi a Minecraftita volevo dirvi che questo venerdì 26 a mezzogiorno sul canale Mates uscirà l'ultimo video, l'ultimo progetto estivo Sarà come al solito un video particolare con cui abbiamo lavorato davvero tantissimo e speriamo che vi piaccia Tenetevi la data, mette la sveglia, non lo so, vi lascio il link qua sotto per il canale Mates e vieni, ci vediamo a vedere di buona visione Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraftita Signori dopo aver completato quello che vedete là in fondo, cioè completato, dopo aver iniziato quello che abbiamo completato là in fondo È il momento di chiudere qualche cerchio, nel senso mi piacerebbe in questo episodio completare appieno il nostro amichetto osservatorio stellare Anche perché per il momento non abbiamo un modo per entrarci, cioè non abbiamo ancora messo una porta Non c'è l'interno, non abbiamo nulla dentro che possa, non lo so, anche solo somigliare a qualcosa, tipo un osservatorio Poi non so neanche come è fatto un osservatorio, sono stato solo una volta tipo a scuola, in gita, ma tipo alle medie mi sa E non mi ricordo, non mi ricordo proprio come era fatto, dovevo cercare qualcosa su Google Comunque, come vi anticipavo nello scorso episodio, il mio interesse potrebbe essere quello di realizzare in questa zona una porta E poi qua una bella scaletta a chiocciola, che, a chiocciola, non a chiocciola, cioè semicircolare Che scende e ti porta qui Ora, per realizzare questo tipo di scalette esiste un trucchetto Perché se le fai a caso, non è proporzionale, difficilmente vi fare qualcosa di figo Per fare una bella scaletta attorno ad un cerchio, devi creare un altro cerchio È una legge mistica, per cui se questo cerchio di base dell'osservatorio ha 5 di lato Tu prendi questo blocco qui Fai tipo 1, 2, 3 3 blocchi, potrebbe essere 3 blocchi la svolta E fai qui un altro cerchio Qua, partirai da 5, ma non sarà 5, probabilmente sarà 7 Qui facciamo così e così E poi fai tipo 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 3 No, no, manca uno spazietto Lo che sto cercando di fare è realizzare un... Come lo posso fare? Mettiamo un'altra cosa in mezzo? 1, 2, 3 E poi qua c'hai 7? Sai che forse ci ho azzeccato? 1, 2 No, no, così viene tipo 9 Facciamo 3, 2, 1, 3 E così siamo giusti Ah, ok, ci ho azzeccato Allora, in questo modo come vedete abbiamo due cerchi Se io completassi questo avremmo due cerchi concentrici Ecco, questa è una buona base da cui iniziare Perché andremo a dormire Come vedete nel mio inventario ho già dei blocchi di pietra O degli slab di pietra Perché ora dobbiamo capire bene come farle questa scaletta Però il mood c'è E ora vi spiego un po' come fare la scaletta propriamente Nel frattempo volevo dirvi una cosa Ieri è uscito un vlog sul canale Quando in realtà doveva uscire GTA È uscito un nuovo DLC del casino Non me lo sono assolutamente scordato Mi sono arrivate 4 mila notifiche di gente che mi avvertiva Lo voglio assolutamente fare Ma non ho ancora avuto il tempo Probabilmente uscirà domani il primo video In cui avvio per la prima volta GTA Online con un nuovo DLC Perché ancora non l'ho neanche avviato Perché non ho avuto tempo Anche oggi purtroppo non avrò tempo di giocarci Se non questa sera ma dipende da che ora finisco in ufficio E casatissimo Perché porca vacca sono casatissimo Ora mettiamo a cuocere un po' di pietra E prendiamo della smooth stone Perché la smooth stone ci dà lo smooth slab Un blocco ce ne dà due Quindi comunque è un buon trade off E voglio fare un'alternanza di slab di pietra e slab di smooth stone Un po' per fare il throwback ai vecchi tempi Cioè l'ultima versione In cui non esistevano queste cose qua Cioè questi stone slab non esistevano Non potevi proprio farli Sono una figata Io aspetto ancora il giorno in cui in Minecraft Si potranno piazzare le cose verticalmente Mi avete detto che le grindstone si possono piazzare anche verticalmente Non lo sapevo Proviamo Cioè se lo faccio così posso piazzarla? Posso piazzarla Alla grande Ecco questo è un buon passo avanti signori Oltre al fatto che potremmo utilizzarlo come Blocco estetico Tantissimo Già il fatto che fa le catene Figata pazzesca Ma si può usare anche in altro modo Tipo Ora So che non c'entra niente Ma piazzato così Sembra un rotolo di cartigenica Cioè potrebbe sembrare perlomeno un rotolo di cartigenica Vabbè Lì poi vabbè Ci sono 4000 situazioni diverse Lì bisognerebbe vedere Comunque In realtà ho bisogno di un po' più di smoothstone di questa Perché questi sono neanche 16 smoothstone slab Diciamo che non bastano A questo punto andiamo a metterle all'interno della nostra super fornace E gli diamo un po' di tempo di lavorazione E vediamo cosa viene fuori E molti mi hanno scritto su di Ma perché ho usato i colblock Quando potevi usare il concreto, la terracotta O comunque tanti altri tipi di blocchi neri Nessun motivo in particolare Se non il fatto che questo ci avevo subito a disposizione E che Comunque Cioè se mai ne avessi bisogno Posso recuperarlo Tranquillamente Cioè non ci metto assolutamente niente A prendere quei blocchi e a sostituirli Anche perché voglio dire Nel senso Non è che ho fatto chissà quale Super mega costruzione complicata da sostituire Sono Due, tre cerchi Uno sopra l'altro Non ci metto davvero poco a sostituirli Ma nella Nella davvero difficile Evenienza In cui io abbia bisogno di blocchi di carbone Perché il mio carburante di fiducia Al momento È il dried cap block Che mi sta dando delle grandi soddisfazioni Anche perché è uno dei più efficienti Considerando che abbiamo la farmla in cima Anzi Per l'appunto Facciamo altri set di questi Li mettiamo qua sotto E Consegniamo il carburante Bravo ragazzo Allora qua dovrebbe aver finito di consegnare tutta la pietra Quindi dovrei trovarmi con un po' di smoothstone slab Cioè un po' di smoothstone Smoothstone tra poco Alla grande Questo andiamo tutti a trasformare Ho in elementare anche Un botto di Di pietra Quindi possiamo fare tutti gli stone slab E ho preso anche gli stone bricks Perché magari ci potrebbe stare di fare il tondino Cioè il tondino inteso Il bordo del tondino Non lo so È da tanto che non faccio un tipo di scala di questo tipo Ma ora ci proviamo Magari ci farei qualcosa di carino Allora Ho bisogno di un po' di questi Boom 50 Già ragioniamo Ne facciamo altri anche di questi Un altro po' Vai così Boom Ok uno stack Uno stack No no che è successo qua Logica si è appena rotta la mia Che osclero ragazzi Oh mio dio Ora funzioni Grazie Grazie Mi fa piacere che ogni tanto cerchi di collaborare Grazie Porca vacca Allora vi voglio spiegare il processo qui Ma è abbastanza intuitivo in realtà Se date un occhio abbiamo due cerchi concentrici Se io parto da una situazione di questo tipo E inizio a costruire Seguendo però questo amichetto nostro Che deve andare fino in cima Quindi sarà il caso di continuarlo Quindi 2 2 1 2 No No Oh cacchio Ho sbagliato Qua è 2 2 1 2 3 Eh no Abbiamo un errore Abbiamo un errorone Dove fare 3 1 1 2 3 Eh no Ma così non viene più O diventa ovale O diventa circolare Vabbè Andiamo avanti comunque Facciamo tipo 3 2 1 1 E ci porta qua in cima Cioè con questa scaletta qua Gira qui E arriviamo in cima Mi sembra ottimo Ora non la terremo in pietra Perché Cioè La cobblestone è un po' scontata Useremo gli stone bricks Che potrebbero dare un bel contrasto Con il fatto che qua è tutta pietra È tutta assolutamente pietra Però la cobblestone nonostante mi piace La userei tantissimo E poi suggerire che poi nei commenti Mi date su merda Eh perché mi dite Eh no ma assurri Ma è davvero fatto Ma è davvero fatto Una scala Con la cobblestone Ma con tutti i blocchi che ci sono in minecraft Ho usato la cobblestone Ma dai Ma su E dai Allora per evitare questo tipo di cose Io direi che possiamo partire da qui E fare una cosa di questo tipo Quindi fare tutto il livello sotto Per intanto Per iniziare Tutto questo Trasformarlo in stone bricks E ora capire Con che gradualità Andare Perché sicuramente Voglio che sia leggermente più altino Di quello che è ora Voglio che accompagni Il tutto Deve essere sensato Perlomeno Tipo qui possiamo già Iniziare a salire un po' Anche qui Poi ovviamente sarà da rompere qualcosa Qui in mezzo Qui deve essere tutto stone bricks No Questo sembra messo male Poi ci sono 4.000 segmentali Quando fanno roba di questo tipo Ok 2 1 Ok Potenzialmente questo è il contornino Di cui abbiamo bisogno Sale fino in cima No 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 Troppo basso Lo voglio più alto Più alto Saremo tutto di almeno Un livello Intanto Per iniziare Perché ovviamente poi qui Noi avremo La nostra scaletta Che dovremo fare Sminchiando un po' la montagna Ma va bene Perché Non è sulla montagna È sul cerchio che ho creato Quindi va bene Allora io direi che possiamo iniziare Dal piazzare Degli slab Non in questo modo Propriamente Però Se inizio a piazzare Degli slab Di questo tipo Ok Poi posso mettere Degli slab Di questo tipo Di questo tipo Forse così Ok Così saliamo già Mettiamo tutti i slab E ora devo Prima fare la scaletta E poi mettere gli slab Quindi non è Propriamente Una cosa semplice Fai una cosa di questo tipo Perché il rischio di farla venire Sproporzionata È molto alto Però noi ci proviamo comunque Perché lo vogliamo fare Vogliamo arrivare là in cima Quindi Io inizio a spaccare un po' tutto Poi abbiamo il problema Che è anche abbastanza ripida Cioè sale L'improvviso Di molti blocchi Quindi per renderla più graduale possibile Devi fare Una stradina Che diventa piano piano Sempre più piccola Che arriva qua in cima E poi Intenzialmente Questo possiamo levare E fare una cosa di questo tipo E poi qua diventerà tutto Stonebricks attorno Ovviamente così si chiama tipo roccaforte Sale 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 Qua si ritrova già con Degli slabettini Di questo tipo Qui faccio così Così Ci starebbe mettere anche Delle vere e proprie scalette Attenzione Per le scalette Visto che di smoothstone Non si possono fare Le faremo di pietra normale Anzi È anche un modo per utilizzarle Visto che da quando le hanno introdotte Nella 1.13 Non le ho Anzi Nella 1.14 Scusate Non le ho ancora Adoperate E invece Sono una cosa interessante Perché voglio dire È una cosa nuova Prima non si potevano fare Tanto vale sfruttarle Ne farò anche un po' di più Ti dirò la verità Ok 24 scalette Sta diventando notte Meglio dormire Meglio dormire Ok Tipo qui C'è una cosa di questo tipo Così Proprio blocchiamo tutto Così puoi salire solamente di qua Sembrano degli slam Messi uno sopra l'altro E Eh Siamo calmi Già fare così Levo questi E qua C'è da rendere il tutto Un po' più Ripido Dobbiamo usare per forza Le scalette Tipo qua Sono scalette Tutto e tutto E qua cambiamo direzione È l'unica Qua poi magari mettiamo un altro bordino Di stone bricks Così sembra che recuperiamo E magari l'entrata Possiamo mettere qua Qua al lato Proprio sul picco della montagna Dici cacchio ma ora cado Beh Potrebbe starci Non è una cosa scontata Qua facciamo un bel buchetto Vedete ci troviamo dentro la struttura Prima volta arriviamo da dentro tra l'altro Direi Bella Particolare Ci sta Riusciamo a fare tutto a scalettine Io sono anche contento Tipo Ok Vai così Facciamo così Così No Non la scala al contrario Grazie Così Così Direi che Ci può stare Qua sei sempre a rischio C'è lama C'è lama C'è il viandante Se c'è lama C'è il viandante Allora Mi è morto È morto il viandante O è morto o è caduto È là Andiamo Arco in mano Che c'è un creeper Stiamo attenti al creeper Quello Sembra Innocuo Ma poi si avvicina e si esplode Allora Cosa mi offri di bello Bucket of pufferfish Cinque smeraldi Vabbè Lo posso trovare tranquillamente nell'oceano Colorante ciano Colorante magenta Horn color block Ottimo 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 Andiamo a prendere degli smeraldi Signori Il coral block È una delle cose Che volentieri prendo Perché il corallo Abbiamo provato a trovarlo Diverse volte Allora Facciamo tipo Ne prendo tre Non è tanto Perché comunque è costoso Cinque Cioè Cinque smeraldi Per un corallo Non è costosissimo Perché è difficile da trovare Però No Eh no Ah ok C'è ancora Dov'è il mio amichetto Non dimmi che si è ammazzato Non dimmi che è invisibile È invisibile? Non sembra essere invisibile Senti Amico mio Non è che mo Ogni volta che io Sono qui Te devi morire Ah Quell'esperienza del creeper Quindi no problem Magari un po' di torcette qua Ce le metterei Visto che spona sempre gente Sai com'è L'elustrazione dall'alto Signori Dall'alto Dove cacchio è il mio villager? Ma non c'è il tipo Guarda E mi piace anche Signor lama viandante Però a me Se è il tipo Che mi fa le offerte Non ci voglio credere Se non è caduto È morto Se non è caduto Ed è morto E ora è lama E lama che fanno? E sicuro Despaunano Avevo già provato A catturarli Ma sono despaunati Nulla Ho perso il trade Del corallo Che palle E quello mi faceva comodo Cioè Era un blocco simpatico Da avere a disposizione E ce ne faremo una ragione Quanto è bello Se compare nel villaggetto Qui Il viandante Quella è una hit Questo lo vorrò fare Comunque più alto Perché così è piccolino Rispetto alla montagna Invece vorrei che Possesse più di impatto Quindi salirò di livello Anche se poi All'interno Io la scaletta Ce l'ho già Ok Qua va tutto illuminato Ho bisogno di più stone bricks Facciamoli Senza troppi problemi Proviamo a salire Ancora di più Quindi facciamo Uno, due Uno, due Uno, due Piazzo due In ogni cosa che vado Tutte queste colonne Ovviamente Saranno di stone bricks Così sembratimo Una fortezza Messa nella montagna Coperta di pietra Tutto estremamente Pietroso Come piace a me Vai così E ce ne manca ancora un po' Ora una cosa bella Che possiamo fare E aggiungere delle lanterne Sul lato sinistro Mentre saliamo Direi che ci sta Modifichiamo qui Le ultime cose Voglio che sia tutto Tutto stone bricks Quindi saliamo Metteremo poi una porticina Ora bisogna ragionare Un attimino Sull'interno Sull'interno Del nostro Super mega osservatorio lunare Che ci permette Di guardare il cielo In teoria Servirebbe tipo Un telescopio Di qualche tipo Un telescopio astronomico Addirittura Uno di quelli enormi Però l'ultima volta Che ho provato a farlo Non so chi se lo ricorda Era tipo la seconda La terza stagione di minecraft Forse no Non era la scorsa Forse era la seconda Stagione di minecraft Era molto una checcata Pazzesca Quindi forse è meglio Tenerlo senza Senza il coso Astronomico Lo dico per voi Ragazzi Che poi se lo faccio Davvero viene brutto Io lo tengo Eh Poi ho problemi vostri Niente Avrò perso La possibilità Di comprare il corallo Ma ho guadagnato Due lid E non mi lamenterò Allora Nell'ottica Della Base astronomica Spaziale Che non è una base Spaziale Perché la base Spaziale C'avevo nella serie Delle 7 Ficata pazzesca Tra l'altro Mi sono riuscito No vabbè Non voglio esploderare Però Interessante Ecco La mia avventura Nello spazio Non è finita qua Non è finita qua Anzi devo registrare Poi l'altro episodio Vabbè Allora Mettiamo delle lanterne Non posso metterle così Aia Aia È vero Me ne ho completamente scordato Devo mettere tipo Delle Sbarre di ferro Devo andare a prendere Sbarre di ferro Va bene Nel frattempo Voglio piazzare Le robettine qui Allora Sicuramente Al centro Della struttura Mi piacerebbe Mettere Un tavolo Un tavolo Perché di solito Ci sono dei tavoli Queste cose Quando si parla di scienze Ci sono anche i tavoli Mettiamo in mezzo Lo smiting table Tanto non si può cliccare Ma ci dà Un bel effetto E poi mettiamo Le scalete al contrario In questo modo Qui sembra Un bel tavolo Vero Con le gambe E tutto quanto Magari anche Uno slabettino lì Uno slabettino lì Uno slabettino lì E così via Andando Poi qua sotto Metteremo Dei pezzi di glowstone Così Illuminiamo Anche il tavolo Così Ora sta diventando notte Quindi l'illuminazione Va un po' Quel paese Però Va bene uguale Poi ho portato Anche Del grindstone Perché pensavo Cacchio Mettiamole Così Sembrano tipo leve O qualcosa del genere Cioè Potrebbe avere senso Tipo mettiamo Una qua sotto E una qua sopra Sì Poi Se clicchi sopra Si vede che è tutta altra roba Però a livello estetico Ci possono stare Sono cose diverse Ecco Ora In realtà Mi piacerebbe Piazzare anche Della glowstone In ogni lato Poi riempirle Con delle Trapdoor Di qualche tipo In modo da coprirlo Ma in questo modo Già abbiamo Illuminato Tutta la zona E sono sicuro Che anche da fuori Si noti Il fatto che L'abbiamo illuminato Se io faccio un voletto Anzi Si provo ad andare Qua su quest'isola volante Non ce l'ho fatta Proviamo ad andare di qua A parte I creeper Che mannaggia Devo illuminare Tutte le zone Devo illuminare Non si dovrà essere più mob Nel mio mondo Ecco Già si vede un botto Di illuminazione Nel raggio inferiore E sopra Un po' più difficile Ma se piazzo delle Glowstone Non è il massimo Buongiorno Se non esplodere Ti odio Ti odio Io odio i creeper Ecco Alla Dove cacchio siete usciti Capito che è notte Ma non è un mob spawner Questo Trovo un creeper in faccia E muoio tantissimo Ok Non è il caso Ah ma tu spawni sopra Mannaggia Andiamo a dormire va Prima che mi scade Un creeper in faccia Cos'altro possiamo aggiungere Che dà quell'impressione Ah Beh sicuramente un cartography table Potrebbe essere la svolta E è comunque Carino C'è il compasso C'è la mappa C'è un piccolo mappamondo Sembrerebbe Ci sta Ci potrebbe stare Allora prendiamo due fogli di carta Guarda ne ho due giusti Prendiamo un po' di legno E lo craftiamo Era così Ottimo Prendiamo anche un art of the sea Che non c'entra nulla Però messo dentro Un item frame Secondo me rende Ah mi sono scattato di nuovo Le sbarre di ferro Cacchio Saliamo saliamo All'interno A parte non c'è solo mob Ok Andiamo a inserire tipo Qua sopra Sembra tipo un pianeta Si ma si che sembra un pianeta E' vero che ne ho solamente due Di light of the sea Però va bene così Ora vai Sostituiamo questo E al posto di inserire Questo qui Mettiamo quest'altro tavolo Con le mappe Ok Ok E lo smiting table A dove lo posso mettere Ma io lo metto qua a terra Sotto questi Ah cacchio è vero che Sembra Sembra quasi un mushroom Il micelio Cos'altro potremmo aggiungere Se sarebbe bello Poterci mettere dei villager qui Dei villager quelli Con il camice bianco Cacchio Se sarebbe troppo Tipo scienziato Che fa cose Però Per il momento E' tutto Sono un po' indeciso Sul pavimento Perché non voglio cambiarlo Perché abbiamo visto qui Che abbiamo solo un blocco Di budget Cioè se rilevo I blocchi Poi sotto si vede Non è bello Quindi potenzialmente Utilizzeremo dei tappeti Dei tappeti Un tappeto colorato Non bianco Ma neanche un colore Troppo scuro Sgargiante Una via di mezzo Tanto le pecore ce l'ho Devo solo colorarle Le colore giusto Prima di iniziare a fermare la lana Poi cos'altro potrei aggiungere Forse Degli altri Degli altri time frame Con dentro Degli oggetti sferici Tipo metto una slime ball Un magma cream Così sembra tipo Tutti i pianeti E potrebbe essere bello Magari fai tutto in cerchio Potrebbe essere un'idea Però ci dovevo pensare Voi lasciatemi i vostri suggerimenti Qua sotto nei commenti Così Lo aggiungiamo alla lista Di cose da fare Tra il finire il villaggetto Fare altre cose E anche finire questo Lo finiremo Nei prossimi episodi Per il momento è tutto Signori Io vi saluto Ciao turuturu tutti Ciao turuturu tutti Ciao turuturu tutti Grazie per la visione!